Si chiama percorsa di salute della campagna dedicata ai pazienti con patologie respiratorie croniche, ai loro familiari e alla popolazione più in generale, attraverso una serie di giornate di informazione, prevenzione, screening e sport. Fra i mesi di maggio e ottobre 2024 saranno 11 le mattinate che proporranno prima consulti medici e possibilità di sottoporsi all'esame della spirometria e quindi una vera e propria staffetta che idealmente consegnerà il testimone del progetto al centro di riferimento della tappa successiva. A sottolineare l'importanza del progetto è Simona Barbaglia, presidente dell'associazione Respiriamo Insieme. Questa campagna nasce per informare, sensibilizzare sulle patologie respiratorie croniche che purtroppo ad oggi nonostante il tanto fatto sono ancora sottovalutate e sottostimate. È quindi importante creare informazione, sensibilizzazione affinché queste patologie possono essere prevenute, diagnosticate e correttamente curate. Asma e asma grave, poliposi nasale, broncopneumopatia cronica ostruttiva e bronchiectasie, queste le malattie respiratorie croniche protagoniste della campagna, patologie che colpiscono il 7% della popolazione italiana. Malattie diverse ma con aspetti comuni, come spiega Gianna Camicciottoli, professoressa presso l'Università di Firenze. Sono delle malattie accomunate da sintomi molto spesso a specifici e lievi, il che significa a specifici, a comune di diverse manifestazioni respiratorie e non, come per esempio la tosse, che può avere diverse caratteristiche produttive o non produttive, la dispnea da sforzo, cioè l'affanno per sforzi di diversa intensità, oppure la dispnea accessionale che caratterizza l'asma, caratterizzata appunto dall'improvvisa comparsa di una sensazione di affanno. L'importanza di una diagnosi precoce ribadita dal professor Pierachille Santos, direttore della pneumologia presso l'ospedale Sacco di Milano. Gli eventi acuti sono caratterizzati da bronchiti acute che in questi pazienti però hanno delle manifestazioni cliniche di estremo rilievo e possono colpire gravemente la popolazione sino ad arrivare a degli eventi estremamente importanti dal punto di vista clinico che necessitano dell'intubazione, dell'accesso in terapia intensiva e sino ad arrivare alla morte di questi soggetti. Quindi diagnosticare precocemente e curare con la terapia inalatoria in modo adeguato permette di prevenire questi eventi acuti. Ha preso il via da Milano la campagna nazionale di sensibilizzazione Not Good Morning volta a mettere in luce i sintomi spesso sottovalutati dell'osteoartrosi a promuovere una maggiore consapevolezza su questa patologia. L'osteoartrosi è una condizione cronica e degenerativa che colpisce le articolazioni causandone il progressivo cedimento e che in Italia interessa oltre 4 milioni di persone prevalentemente over 50, come sottolinea Mario Vetrano, professore associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università Sapienza di Roma. Si manifesta tipicamente con un dolore, un dolore meccanico, quindi nel compiere determinate attività che provocano delle sollecitazioni meccaniche e le articolazioni, tant'è vero sono le articolazioni da carico quelle maggiormente colpite, vale a dire quelle degli arti inferiori, la colonna e anche quelle che sollecitiamo maggiormente, per esempio le articolazioni delle mani. Nonostante non esistano cure definitive per l'osteoartrosi, un corretto stile di vita può combatterne gli aspetti più degenerativi, come ribadito da Andrea Reggiani, socio fondatore dell'Associazione Nazionale di Fisiatria Interventistica. L'idea oggi è quella che il movimento sia la miglior terapia per i problemi di osteoartrosi. Ricordiamoci che uno stile di vita sano e una riduzione del peso corporeo migliorano la qualità globale delle nostre articolazioni e portano un movimento più fluido e meno doloroso per i nostri pazienti. Fra i sintomi spesso sottovalutati dell'osteoartrosi, la rigidità mattutina, qui è dedicata una statua che sarà installata nelle varie piazze tappa della campagna, come è spiegato da Silvia Tonolo, presidente dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici. La dimostrazione è la statua che abbiamo qui alle nostre spalle in cui individua un paziente che nel momento dell'alzarsi dalla poltrona avverte dei dolori e quindi il viso corrucciato dimostra anche il viso di tutti i giorni, di tutti i nostri pazienti che purtroppo combattono questa patologia. Reagire attraverso una corretta dieta è una vita attiva come confermato da chi di movimento se ne intende il campino olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. Troppe persone sono sedentari, usiamo la parola scusa a nostro discapito. La scusa la potremmo usare quando andiamo a scuola per dire che non avevamo studiato e invece adesso a giorno d'oggi bisogna assolutamente lanciarsi. Alle nostre spalle c'è una statua di pietra che raffigura una signora che fa fatica ad alzarsi. Ho detto durante la conferenza stampa che abbiamo il diritto e il dovere di fare movimento, che non significa diventare campioni olimpici ma significa provarci. Grazie. Grazie. Grazie.